Salve a tutti, vediamo i tre segni favoriti di questa settimana e devo anticipare che i propri tre segni di terra preveggiano. Infatti al primo posto abbiamo il Capricorno, Saturno consolida in campo affettivo e lavorativo, Plutone trasforma periodo di grande evoluzione di sostanza e concretezza e anche moralmente vi sentite bene e soddisfatti, per voi sarà un ottimo rigenerante dato il Capricorno ha sempre necessità di stabilità e anche giusto e la troverete. Seconda posizione il Toro, Sole, Mercurio e Urano formano un bel trigono nel cielo, quindi sarà una settimana ricca di idee e novità. Afferrate al volo ciò che vi può far cambiare, questo in vari settori della vita, perché non sempre arrivano possibilità così inaspettate e veloci. Il Toro in questo periodo, che sarà un periodo a lungo termine, avrà tanti cambiamenti e deve essere anche pronto a non indugiare, così potrà realizzare tante cose in amore e nel lavoro. Complimenti! Primo posto, la Vergine. Un bel trigono di Luna, il Sole, il Saturno e poi Plutone indicano consolidamenti incontri che cambieranno la vostra vita. Molte persone avranno opportunità lavorative o cambiamenti, sempre professionali. Sarà una settimana molto costruttiva. Grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana, già presto. 40 anni di esperienza, rispetto, condivisione. 40 anni di grande umanità. 40 anni di una professione che richiede assoluta correttezza. Astrologa Cartomante Ambra, un contributo essenziale per dare risposte utili, per ritrovare la tua serenità. Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo. L'astrologia, cartomanzia, tutte le tecniche divinatorie possono aiutarti a ritrovare te stesso, la tua strada. Astrologa Cartomante Ambra, via Fra Palo Sarpi 51, Firenze. 055-666-000. Anche su Facebook.